Buongiorno ragazzi cangettoli, questo è un video che mi avete chiesto su Instagram, lo faccio molto volentieri è un video per cercare di dare anche a un principiante dei dati, delle informazioni tecniche per poter confrontare le varie auto tra di loro senza basarsi solo su 0-100, su 100-200 che sono valori artificiali e sono soggetti a troppe variabili vi ricordo però prima di iniziare che siamo su YouTube, attivate il pollizioni se vi piace il video seguite il canale per altri aggiornamenti, anche su Whatsapp è un gruppo Whatsapp, aggiungetevi anche il gruppo Whatsapp per chiedermi sono direttamente io coinvolto all'interno di Whatsapp, Instagram anche Instagram, seguitemi ovunque così vedete che pubblico un po' random dappertutto così potete sapere esattamente cosa sto facendo e come sta andando detto questo sigla e poi cominciamo, dai! bene, parliamo di automobili allora, a livello tecnico cominciamo col dire che le macchine hanno 4 ruote e penso che fino a qua non ci siano dubbi, contatele, è sicuro che sono 4 cosa mi serve per spostarmi con la macchina? mi serve direzionalità, quindi mi serve il volante per serzare a destra e a sinistra e mi serve trazione, cioè mi serve che almeno 2 ruote mi diano movimento e mi facciano spostare ora avendo 4 ruote io posso avere o 2 ruote che mi danno trazione o 4 quindi già ho fatto una profonda distinzione del mondo auto o tutte e 4 ruote che mi danno movimento e trazione, tipo nei fuoristrada o 2 ruote motrici, solo 2 che mi fanno spostare quindi immaginate di avere il volante tra le mani di essere a bordo auto nel caso delle due ruote motrici io potrei avere o le due anteriori e quindi si parla di trazione anteriore che mi danno, le motricità mi fanno spostare o trazione posteriore, cioè le ruote alle mie spalle che mi danno movimento e mi fanno spostare in un minuto abbiamo già detto una cosa fondamentale abbiamo già capito come poter valutare le macchine o comunque come poter già dividere in categorie le macchine che si possono valutare insieme perché giustamente valutare una 4x4 contro una 2 ruote motrici a seconda di cosa si valuta una può essere svantaggiata rispetto all'altra e viceversa quindi già qui potrei dire se dovete valutare le macchine valutate almeno con la trazione dello stesso lato o se 4x4 solo con le 4x4 perché influiscono tantissimo a livello di rendimento della trazione della macchina sia in pista che in strada sia nelle accelerazioni la trazione influisce tantissimo quindi già solo riuscire a capire che trazione hanno queste macchine e suddividerle in categorie quindi 4x4 anteriore e posteriori già mi consente di poter decidere e capire quale auto posso confrontare l'una con l'altra o no o se proprio devo confrontare due auto di categorie diverse almeno ricordarsi che hanno un deficit a seconda di che valore voglio confrontare tra le due auto aggiungiamo un altro elemento l'elemento più pesante della macchina e che è fondamentale dove venga posizionato è il motore il motore può essere posizionato ovunque su una macchina può essere posizionato anteriormente quindi davanti a me sempre immaginando essere con la fronte tra le mani può essere posizionato alle mie spalle quindi il motore centrale al posto dei famosi sedili posteriori inoltre sportivano il motore al posto dei sedili posteriori nella parte centrale della macchina o nel caso del maggiolino il famoso maggiolino o la 500, la prima 500 o ad esempio Porsche il motore è posizionato posteriormente cioè sopra letteralmente sopra le ruote posteriori o addirittura dietro delle ruote posteriori questo ovviamente influisce tantissimo nel rendimento della macchina perché la distribuzione di pesa è fondamentale nel rendimento in curva nell'accelerazione influisce tantissimo quindi anche in questo caso abbiamo aggiunto un altro elemento dove è posizionato il motore è fondamentale capire dove è posizionato il motore e giustamente poi capire quali vantaggi può dare quali svantaggi può dare quindi ci staranno auto trazione anteriore motore anteriore trazione anteriore 4x4 oppure auto motore centrale 4x4 tipo la Huracan o motore centrale trazione posteriore come quasi tutte le Ferrari o come il momento con la Porsche motore posteriore quindi dietro sull'asse posteriore 4x4 come le Porsche o trazione posteriore l'unico configurazione che non vedrete mai perché per ovvi motivi è illogica è motore posteriore trazione anteriore perché è illogica perché io metto tutto il peso dietro quindi già quando parto il peso si trasferisce posteriormente se metto anche il motore dietro finisce che continuo a patinare ho fatto una macchina per fare le sgommate perché di fatto trazione non ce la avrai quasi mai quindi abbiamo già contestualizzato in 3 minuti scarsi in 4 minuti scarsi abbiamo contestualizzato già dove si mette il motore che tipo di trazione possa avere già con questi dati vi assicuro che se andate a confrontare le auto che hanno potenza e peso simile suddividendole per queste categorie noterete che i valori sono molto vicini perché state confrontando auto con un'altra dipoggio di auto corretta non state confrontando una trazione anteriore con un 4x4 o una trazione anteriore con una trazione posteriore noterete che se sono molto simili di peso e di cavalli i valori di 0-100 100-200 o anche di tempo sul giro sono molto molto simili ovviamente non mi andate a prendere una macchina negli anni 60 o una macchina nel 2000 è una macchina molto simile tra di loro quindi già con questi valori io posso andare a confrontare le auto facciamo degli esempi poi anche a livello di valori io non riguardo molto i 0-100 o i 100-200 perché sono valori che sono troppo condizionati dalla tipologia di cambio o dalla tipologia di rapportatura che ha la macchina perché anche se vado a prendere una macchina 4x4 centrale due macchine 4x4 come motor centrale dipende casa madre cosa ho deciso di fare col cambio perché ricordiamoci che le macchine devono essere in grado di fare qualsiasi cosa soprattutto con le stradali sportive devo poterlo usare in città devo poterci andare anche in pista devo poterci anche divertire devo poter fare anche lo scemo quindi fare una macchina che abbia un rapporto solo per magari guardare il 100-200 o lo 0-100 per me non ha senso lo 0-100 ancora ancora perché partita fermo viene considerato molto nel mondo auto ma il tipo il 100-200 secondo me è un valore totalmente inutile perché è un valore che influisce tantissimo dalla portatura del cambio quindi cosa ho dovuto fare a casa madre ma soprattutto è il famoso sparlo tangenziale cioè io sono in tangenziale magari a 110 vecco uno che mi sta un po' a culo mi sta sul cazzo butto giù tutto e il primo che arriva a 200 tra virgolette vince diciamo quindi è un valore siccome è totalmente inutile anche perché se io potrei farmi benissimo una macchina con una portatura apposta per fare il 100-200 farei dei tempi assurdi quindi secondo me il 100-200 non è un valore da tenere in considerazione io i valori 0-100 il 100-200 ritengo veramente poco in considerazione valuto molto di più tecnicamente come costruito l'automobile in questo video mi sono solo soffermato su quindi dove è posizione il motore la trazione non ho parlato di che tipo di sospensioni possa avere la macchina McPherson o quadrilatero che materiali nobili può avere carbonio alluminio per adesso mi fermo solo su questo e già solo non noterete che già solo usando queste metodologie per suddividere le macchine le macchine saranno molto molto più facili di confrontare ma saranno soprattutto molto vicine con i valori come vi ho già detto spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente questo è il primo approfondimento per principianti quindi per chi veramente non conosce nulla nel mondo dell'automobile vi ricordiamo che sono su Whatsapp su Youtube e su Instagram tutto questo vi saluto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao